La settimana politica all'emiciclo si è aperta con la riunione della Commissione Bilancio e congiuntamente di altre commissioni, con tanti temi sul piatto dall'assestamento di bilancio alle manovre antideficit delle ASL, passando per le vendite all'asta delle concessioni balneari con gli indennizi che per le imprese uscenti sono diventati un miraggio. Uno dei temi è che per la prima volta nell'assestamento entra la questione dell'area di risulta dove costruire la sede unica a Pescara. L'assessore al bilancio Mario Quaglieri non commenta le recenti polemiche ma spiega che è importante per iniziare a programmare. Entra come linea programmatica, questo serve per permettere nel momento in cui si sblocca tutte le procedure urbanistiche di provvedere anche a un possibile indebitamento da parte della regione per la rizzare l'opera. Forse per la prima volta la regione cala nero su bianco quelle che sono linee programmatiche per la sede unica di Pescara, quindi comincia a fare i primi passi verso la realizzazione. Le polemiche sulla sede unica sono state consigliere Antonio Blasioli che spiega che l'articolo 14 è una vera e propria dichiarazione di guerra all'intelligenza e alla città di Pescara si autorizza la contrazione del mutuo per la progettazione e realizzazione della sede unica nell'area di risulta. Se prima il cemento per lui era solo nelle intese e nelle convenzioni, questa legge che banalo è il 6 agosto dal via libera al reperimento delle risorse. Noi non gradiamo assolutamente il progetto della nuova sede unica all'interno del parco centrale della città con la cosiddetta area di risulta, oltre a quanto necessario per realizzare il palazzo della sede unica della regione all'interno dell'area di risulta occorre ancora la progettazione e parliamo di un appalto europeo perché sicuramente varia tra i 2 e i 4 milioni di euro a seconda dei metri quadri di quello che sarà questo palazzo perché anche questo non è dato di sapere ancora fino ad oggi e quindi bisognerebbe intanto provvedere alla progettazione prima ancora della realizzazione e poi c'è ancora l'eterna lentezza della giunta Marsilio nella vendita dei due palazzi sedi della regione Abruzzo, quello di via Lebovio e di via Raffaello. Dovevano essere venduti entro il 2023 e 4,5 milioni di euro ricavati da quella vendita dovevano essere destinate alla realizzazione della sede unica a Pescara.